Saluto a tutti, sono Tafla, Noenci, sono qua 7 dicembre 2022 alla fiera degli Obey Obey, vedete, questo cartelli, guardate, questo qua fogli, quello fogli, poi ho fatto anche questo qua arte paleocristiana l'ho fatta qua, vedete, questa qua arte paleocristiana, vedete, questo pure arte paleocristiana certificata, vedete, qui ho fatto arte paleocristiana, vedete, questo parte paleocristiana, e poi qua c'è fiera Obey Obey, vedete, tutto fiera Obey Obey, tutto fiera Obey Obey, e qua ho fatto parodia di Fiasconaro, vedete, guardate, qua 300 metri più avanti, il 15 giugno 1973, Fiasconaro ha fatto il giro dell'arena, uno, due giri d'arena, 1,437 record del mondo, qua 300 metri di stanza, allora io ho fatto uguale, vedete, ho fatto il giro dell'arena, ho fatto la parodia del record del mondo di Fiasconari, vedete, sono venuto qua, a 300 metri, vedete, Fera Obey Obey, guardate, poi qua c'è la curva, torna tutto indietro, fa uguale che il record del mondo di Fiasconaro, vedete, guardate, guardate, vedete, questo è il record del mondo di Fiasconaro ripetuto 2023, e quanto tempo, 50 anni dopo, 50 anni dopo, vedete, loro arrivano qua tutti, fanno curvi e fanno giro, e fanno giro pista come Fiasconari, vedete, questo è uguale a rena, qua 300 metri c'è l'arena, tanto saluto tutti, e poi qua c'è, qua c'è lavoro, qua c'è lavoro di arte paleocristiani, vedete, vedete, qua c'è lavoro di arte paleocristiano, guardate, 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 vedete, che rimane, è anche calpestabile, avete visto, ho fatto calpestabile, tanto saluto tutti, 7 dicembre del 2023, da Tasna Noenge, la parodia del giro di pista di Marcelli Fiasconaro 1973.